Tra le reazioni in Puglia alla vittoria del no a referendum costituzionale vi sono due autorevoli voci del Partito Democratico pugliese contrapposte in campagna elettorale. Si tratta del sindaco di Bari Antonio De Caro Renziano e divenuto da poche settimane presidente del Lanci nazionale. Proprio lui ha sottolineato come vada dato atto a Matteo Renzi di essere stato coerente ponendo in campo la sua proposta, sottoponendola al giudizio degli italiani ed ora avendo rassegnato le dimissioni subito dopo il voto negativo. La credibilità della politica si misura anche da questi comportamenti, ha sottolineato De Caro. Personalmente ho sostenuto una battaglia, quella della riforma costituzionale, prosegue lo stesso De Caro, che ho ritenuto giusta e che ritengo tuttora valida secondo l'esperienza che io stesso ho fatto in Parlamento qualche anno fa. I cittadini con una straordinaria partecipazione hanno votato e hanno scelto di non confermare la proposta di riforma. Queste sono le regole della democrazia. Infine, da presidente del Lanci, lo stesso De Caro, ha richiamato l'attenzione dei parlamentari affinché in questo delicato momento dell'iter di approvazione della legge di bilancio vengano mantenuti gli impegni assunti con il sistema delle autonomie locali. Di altro avviso, invece, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che dopo essersi battuto per il no, fa un appello alla riconciliazione, perché sottolinea trasformare anche il dopo referendum in una lotta politica, vorrebbe dire non aver capito il messaggio lanciato dal popolo italiano col voto. Lasciate stare la Costituzione e mettetevi a lavorare. Questo è il commento in cui ciascuno si assume le proprie responsabilità, ha detto lo stesso Emiliano. E devo dire che questo sta già avvenendo in modo corretto secondo un'etica della politica che condivido. Poi è anche il momento della riconciliazione. Lo stesso presidente della regione Puglia ha aperto ad una sua possibile candidatura alla segreteria nazionale del Partito Democratico in caso di ulteriore passo indietro immediato di Renzi. Grazie. 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 Grazie.